E' arrivata per mano con lui, un moretto niente male. Aressia Tedeschi ha scelto di esserci su Red Carpet del Roma Film Festival, accompagnata ma ancora single. Solo un fascinoso boy per l'occasione mondana, per la bella modella e aspirante attrice che sogna il cinema da stop. La sexy girl si è presa multi-flash da sola, con indosso il suo mini abito con trasparenza e vedo non vedo, abbellito da un coprispalle, sandali altissimi a listini ai piedi e gambe toniche in primo piano. Il ragazzo è rimasto per un po' in distanza.